Ciao ragazze, in questo video parliamo di capelli e in particolare oggi andrò a realizzare un look veramente stupendo, bellissimo e non vedo l'ora di vedere il risultato finale, ovvero delle onde morbide stile Beachways effetto sirena. Quindi andrò a colorare i miei capelli, sono troppo contenta perché io ho sempre voluto colorare i miei capelli, solo che essendo Cassana sarebbe stato un po' problematico perché avrei dovuto decolorarli, poi avrei dovuto fare la tinta, quindi si sarebbero rovinati, sarebbe stato un processo molto lungo, quindi alla fine non l'ho mai fatto e quando ho scoperto l'uscita di questo nuovo prodotto ero troppo felice, sono impazzita. Si tratta di Colorista Hair Makeup di L'Oreal, questo è il prodotto perfetto per cambiare il look ogni giorno, si possono colorare i capelli molto facilmente e poi con uno shampoo va via. Mi lascia i capelli morbidi, non danneggia i capelli, è veramente fantastico, io non vedo l'ora di provarlo. È perfetto per colorare le ciocche e le punte ed è facilissimo e veloce da usare, quindi voglio assolutamente provarlo insieme a voi, non vedo l'ora di avere i capelli colorati, vado a prendere l'occorrente e torno subito da voi. Oggi per realizzare il look da sirena andrò a utilizzare quattro colorazioni sul rosa e sul viola, quindi iniziamo subito. Come primo colore scelgo Raspberry che è un bellissimo fucsia acceso, allora come si applicano? Si mettono direttamente sulle mani e si prendono una ciocca e con le mani si applica il prodotto, ah guardate quanto colora, oddio sono già fucsia, bellissimi. E con le mani si sfuma verso l'alto, non preoccupatevi per le vostre rita perché si tolgono semplicemente con il sapone, cioè lavando le mani vengono via questi colori. E vedete che avete la vostra prima ciocca colorata. Ora dovete spazzolare la ciocca quando il colore è ancora bagnato. E la cosa bella è che ci sono 19 tonalità, 19 nuance, 10 per bionde e 9 per castane, sono tutti dei colori bellissimi. E la cosa fantastica è che le colorazioni per castane colorano veramente tanto, come potete vedere. E tra l'altro si possono anche mixare tra loro, magari dopo proviamo a fare un colore nuovo. Ora voglio andare a provare Dirty Pink, che è un altro rosa perlato questo. E sono un po' come, si chiamano hair makeup perché sono un po' come il trucco, quindi ci sono anche quelli shimmer, si possono mischiare tra loro. E appunto vanno via semplicemente con un lavaggio, quindi sono perfetti per cambiare look ogni giorno. E vado ad applicarlo. Guardate quanto è bello anche questo colore. Adesso voglio provare la colorazione Plum, che dovrebbe essere un bellissimo viola caldo. Quindi applico sempre un pochino di prodotto sulle dita. Prendo una ciocca e vado ad applicare il prodotto. Bellissimo questo viola, è proprio un colore da sirena. Passiamo di qua, voglio provare Mauve. Dovrebbe essere un bellissimo colore malva. E applico il prodotto. Guardate anche questo che bel colore. E continuo ad applicare i colori sulle varie ciocche. E' anche divertente perché potete scegliere tutti i vari colori, fare tutte le ciocche diverse. Bello bello, mi piace un sacco. Voglio provare a colorare questa ciocca mischiando due tonalità. Prendo Raspberry e un pochino di Plum, che è quella viola. Quindi il fucsia e il viola. E vado a mescolare semplicemente con le dita. Wow, è venuto questo bellissimo colore ciliegia scuro. Guardate che bello, è bellissimo il fatto che si possano mischiare i colori. Eccomi, allora ho finito, ho fatto varie ciocche con diversi colori. Il risultato mi piace un sacco. Mi sono anche lavata le mani, come vedete è andato via tutto semplicemente con un pochino di sapone. Ora prendo il fond e vado a asciugare i capelli. Eccomi, questo è il risultato, io sono troppo contenta. Sono troppo belli, cioè li adoro davvero tantissimo. Sono troppo felice di avere finalmente i capelli colorati. È stato davvero facile da usare, anche abbastanza veloce. Vedete che ho una camicia bianca che non sta macchiando assolutamente. È venuto via dalle mani, quindi super promosso. Ora passiamo allo styling e utilizzerò questo prodotto della linea Stylista, di cui vi avevo già parlato nel video del BAN. E oggi utilizzerò Stylista Beachways, un prodotto privo di siliconi e di parabeni che va a darvi quell'effetto onde da spiaggia. È arricchito con sale marino, quindi per ottenere un mosso super naturale ed estivo vado a spruzzarlo sui capelli. E poi vado a legare i capelli in due trecce. E voilà! Ora potete farli asciugare all'aria semplicemente una decina di minuti, oppure per fare più in fretta potete utilizzare il phon. Una volta che le trecce si sono asciugate vado a scioglierle delicatamente. Vedete che otterrete proprio questo effetto onde da spiaggia. Già così a me l'effetto piace tantissimo. Se preferite un look più definito potete andare a ritoccare alcune ciocche con un ferro. Bene, quindi questo è il giudato finale. Io sono innamorata di questi capelli. Adoro i colori, adoro queste onde morbide, davvero mi piacciono tantissimo. Fatemi sapere qui nei commenti se piacciono anche a voi, ma sono sicura che apprezzate tanto perché sono troppo belli. Guardate queste sfumature. Basta, sono stupendi. Vi lascerò tutti i link dei prodotti con l'info box perché sicuramente vorrete dare un'occhiata. E fatemi sapere se vorreste vedere qualche altro look particolare, magari vedermi provare qualche altro colore. Sarai molto felice di farlo. E niente, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Basta, sono troppo contenta. Guardate quanto sono belli. Adesso devo uscire per forza con questi capelli bellissimi. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!